Un dipendente della London Clinic avrebbe tentato di accedere alla cartella medica di Kate Middleton. Nonostante le misure di sicurezza serratissime, c'erano anche due poliziotti a piantonare il portone principale dell'ospedale di Merilebone, giorno e notte, ci sarebbe stata una falla nel senso. Nonostante le misure di sicurezza, a rivelare la notizia è stato il Mirror e al momento non è stata né confermata né negata da Kensington Palace, mentre il garante per l'informazione, l'Information Commissioner's Office a rivelare la notizia è stato il Mirror e al momento la London Clinic, nel frattempo, avrebbe avviato un'inchiesta interna per capire cosa si è Crediamo fermamente che tutti i nostri pazienti, qualunque sia il loro status, abbiano diritto alla privacy e la riservatezza per quanto riguarda informazioni mediche, ha precisato Crediamo ferma La London Clinic è tra gli ospedali privati più conosciuti e rinomati al mondo ed è stato spesso scelto dalla famiglia. Questa sarebbe la prima volta in cui si sia mai verificato un problema del genere frutto, probabilmente, dell'interesse spasmodico, quasi ossessivo, intorno alle condizioni di salute. Questa sarebbe la prima volta in cui si sia mai verificato un problema del genere frutto, per un'operazione alla prostata ed è lì che il re ha scoperto di avere un tumore.